La cronaca, oltre 6 milioni di euro e capitali societari e 15 milioni, il volume d'affari prodotto e il valore dei beni sequestrati dalla DIA di Milano ad Antonio Pronesti. 59 anni, residente nel Comasco, ma considerato vicino alle cosche Raso, Gullace, Albanese della provincia di Reggio Calabria. Sigilli a otto società informatiche attive nel campo delle scommesse e delle lotterie. L'indagine è della procura regina, ma gli uomini dell'antimafia si sono mossi fino a Roma e Milano e poi anche in Svizzera, dove avevano sede le aziende e di conseguenza venivano nascosti i patrimoni. Pronesti risulta coinvolto in operazioni antimafia fin dal 1988 e poi nel 2016, quando fu arrestato con altre 40 persone in un'operazione della DIA regina. Di recente un'assoluzione in primo grado da parte del Tribunale di Palmi, l'accusa anche allora era di aver favorito gli interessi imprenditoriali dei clan nel nord.